Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, oggi incontriamo il sindaco di Longarone Roberto Padrin che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buonasera a tutti. Naturalmente dedichiamo una pagina al sessantesimo del Vaionta, nel suo comune ci sono state tanti eventi collaterali a quello che poi è stato il giorno principale, il 9 ottobre. Parliamo prima di tutto di questi per poi arrivare alla cerimonia. Ma è stato un programma intenso che abbiamo costruito insieme alla Fondazione Vaionta e alle associazioni locali per cercare di dare quello che era il giusto segno a questa vicenda che quest'anno, devo dire la sincera verità, ha trovato non solo a Longarone le nostre comunità ma in tutto il Veneto, ma oserei dire quasi in tutta Italia veramente tantissime iniziative. Mai come quest'anno ho visto una grandissima attenzione su questa storia. Sono passati 60 anni ma penso che sia ancora veramente vivo il ricordo, la memoria e poi abbiamo vissuto dei momenti che io personalmente non dimenticherò mai, soprattutto l'incontro con i soccorritori. Qui abbiamo dedicato un viale, è stata una giornata dove sono arrivati circa in 300 da tutta Italia, anche in condizioni fisiche non facili, ma devo dire che nel raccontare le loro storie, nel consegnargli semplicemente un diploma dove abbiamo scritto grazie, c'è un po' tutto quello che è stato il Vaionta, soprattutto in quella parte dove i soccorritori hanno lasciato un pezzo del loro cuore nella nostra comunità. 9 ottobre poi grande giornata con grande copertura anche mediatica e grandi presenze. Ma sì, insomma abbiamo organizzato momenti indimenticabili legati a presentazione di libri, concerti, momenti anche di riflessione importante con gli psicologi, geologi, insomma è stato un programma sicuramente molto vario, ma poi ovviamente la giornata clou è stata la presenza del Presidente della Repubblica, al di là dell'emozione nell'incontrarlo e soprattutto nel cimitero di Fortogna e quella sua passeggiata solitaria mi ha un po' ricordato quella di Papa Giovanni Paolo II che venne nel 1987 a visitare quel luogo che era diverso perché ora è stato trasformato in cimitero monumentale, ma devo dire che è stata una presenza forte che anche da quel punto di vista ha creato una grandissima attenzione giustamente come dicevi tu mediatica che ora è un po' l'obiettivo. Qual è l'obiettivo per il futuro? Cercare di far conoscere più possibile e a più persone questa nostra vicenda perché questi errori non si ripetano, ma soprattutto che diventi un bagaglio di esperienze da non rifare per tutto il nostro Paese. Ha citato il Papa, cambiamo argomento, c'è qualcosa che bolle in pentola diciamo che riguarda proprio la visita a Roma. Ma un po' il mio sogno di celebrare questo sessantesimo era legato proprio alle due figure più importanti che abbiamo, il Presidente della Repubblica e l'avevo già incontrato il 15 dicembre del 22, insomma mi aveva già, gli avevo strappato una mezza promessa e la seconda era quella di riportare il Papa a Longarone, cosa che sicuramente non è possibile, è difficile anche per le sue condizioni di salute, ma poi è un discorso che va sicuramente più ampio e non può essere limitato solo a questo e quindi siamo riusciti e quindi devo ringraziare qui il nostro Vescovo Don Renato Marangoni di essere riuscito a organizzare un'udienza privata che si terrà il 19 di gennaio a Roma dove circa adesso 250 persone, adesso stiamo un po' definendo i numeri, potremmo incontrare il Papa che ci accoglierà, sarà una visita soprattutto che io ho voluto insieme al nostro Vescovo regalare, passatemi questo termine, alla comunità superstite, alle famiglie dei superstiti, alle famiglie delle nostre vittime in modo da poter completare un cerchio a cui io sicuramente ci tenevo tanto e quindi sarà una giornata anche questa penso indimenticabile. Voltiamo pagina, parliamo di Longarone Fiere, c'è stato Redamont, un classico successo? Un classico, siamo tornati ai livelli pre-Covid e quindi questo è stato un grandissimo risultato per cui ringrazio tutta la struttura di Longarone Fiere e Dolomiti che ha lavorato per tutto l'anno per cercare proprio di presentare questa fiera che è una fiera diventata veramente altamente specializzata dove il protagonista vero è il legno che era un po' l'obiettivo con cui era nata Redamont e devo dire che la risposta del pubblico è stata eccezionale ma soprattutto gli espositori sono soddisfatti perché è arrivato un pubblico di persone interessate e questo era un po' l'obiettivo e quindi abbiamo i presupposti veramente per dire che Redamont è ripartita alla grande e avrà un futuro di grande successo sicuro. C'è stata anche la mostra internazionale del gelato, quest'anno aperta agli addetti ai lavori come è andata e quali sono le prospettive per il futuro? Ma questa è sicuramente una fiera che ha più difficoltà rispetto a Redamont perché alcuni espositori da alcuni anni non vengono più in fiera e questo ovviamente crea un appeal diverso abbiamo cercato di riservarla solo agli operatori e anche un po' su richiesta degli espositori ma stiamo già studiando per il prossimo anno che almeno un padiglione possa essere dedicato a tutti gli amanti del gelato e forse anche qualcosina in più. Diciamo che le idee ci sono per rilanciare in maniera forte la mostra del gelato abbiamo bisogno che questo evento che un po' da dove è nato Longarone Fiere possa tornare un po' ai fasti. Non è facile, devo dire la sincera verità, perché è cambiato il mondo anche delle fiere e quindi queste fiere particolari abbiamo tanta concorrenza ma soprattutto ci sono aziende che hanno creato delle reti commerciali che ovviano alla presenza all'interno di manifestazioni fieristiche però l'obiettivo è quello di portare nuovi operatori, quindi nuovi gelatieri e quindi creare quelli che sono i presupposti per un rilancio anche della mostra del gelato. Oltretutto c'è stato spazio anche per l'arte, mi rivolgo ancora a Redamont con arte in fiera eccetera, quindi Longarone Fiere si conferma un polo multiculturale. Ma sì, adesso noi stiamo cercando di definire con gli altri soci una sorta di ricapitalizzazione perché pesa sul bilancio economico della nostra società l'acquisto dei padiglioni avvenuto nel 2008 con un mutuo ventennale, poi durante il periodo del Covid abbiamo acceso dei mutui con le banche per cercare di ovviare ad una situazione non facile per mantenere il personale che adesso ovviamente vanno sistemati. Questo ovviamente pesa in questo momento sul bilancio e quindi stiamo procedendo con i soci pubblici in particolare ad una ricapitalizzazione. Vedo che da parte di tutti c'è la volontà di mantenere questo polo che è un punto di riferimento fondamentale per l'economia della provincia di Belluno. Montiamo ancora la pagina, parliamo del mancato accorpamento degli istituti scolastici di Longarone e Zoldo. Cosa è successo e come si è risolta? Ma lì è un discorso che parte un po' da più in là, nel senso che è uscita una legge nazionale che di fatto contingenta quelli che sono il numero dei ragazzi nella definizione degli istituti comprensivi. Per la montagna il numero è 400 e devo dire che abbiamo delle situazioni in provincia che devono essere sanate. Il totale è 10 però nel Veneto, facciamo un discorso un po' più ampio. Quindi con i dirigenti scolastici, grazie a un lavoro che ha fatto un po' di mediazione la provincia, ringrazio il mio consigliere delegato Serenella Bogana che ha gestito questa operazione qui, siamo riusciti a comunicare alla regione la volontà di accorpare, di creare un istituto omnicomprensivo a Cortina e poi, e questa è una scelta che però è abbastanza dolorosa per me in particolare, di accorpare l'istituto alberghiero Dolomier con il Calvi di Belluno. Abbiamo cercato in tutti i modi di mantenere l'autonomia, soprattutto il Dolomier magari anche creando un comprensivo con gli altri istituti alberghieri. Non è stato possibile perché purtroppo i numeri ormai sono scesi a 230-240 studenti, nonostante ci sia convitto e quindi mantenere un'autonomia di gestione diventa impossibile alla luce di questa legge che è stata emanata. Un'altra delle scelte, delle quasi imposizioni, era quella anche di accorpare l'istituto comprensivo di Zoldo con quello di Longarone, lì devo dire che grazie all'intervento dell'assessore Donazzan che abbiamo sentito e che abbiamo cercato un po' di convincere nel cercare di soprassedere almeno per quest'anno e cercare il più possibile di mantenere l'autonomia di due istituti che anche logisticamente fanno fatica a unirsi e per altre motivazioni che sarebbero troppo lunghe qui da descrivere, insomma alla fine siamo riusciti a convincerla e quindi al momento siamo riusciti a mantenere i due istituti autonomi. Lavori pubblici, iniziamo da quelli in città, c'è qualche novità? Le novità sono tante, l'unica cosa che spesso e volentieri ci fa un po' rattristare, passatemi in questo termine, i tempi burocratici che sono infiniti. Noi abbiamo un portafoglio di risorse importanti a Longarone grazie alla fusione e grazie soprattutto anche al rinnovo per cinque anni della fusione, siamo riusciti in questi anni anche a risparmiare delle risorse importanti per investimenti. E' chiaro che poi per metterli a terra ci vuole tempo, tempo autorizzativo, tempo di veramente molto. Però la primavera del 2024 sarà una primavera molto importante perché finalmente faremo un intervento su Piazza 9 Ottobre, io vi dico la sincera verità, fatico ad entrare oggi in Piazza 9 Ottobre perché è nelle condizioni peggiori possibili e quindi è giusto che i cittadini si lamentino di quella piazza e quindi adesso noi siamo riusciti ad avere un finanziamento con i fondi di confine friulani, i cosiddetti famosi fondi letta, più un cofinanziamento del comune e quindi in primavera partiranno i lavori di quello e delle ex poste che verranno demolite e verrà creato dei bagni pubblici e una struttura molto leggera in modo da poter garantire un miglioramento anche dal punto di vista estetico di Longarone. Quindi questi sono i due interventi principali. Poi stiamo aspettando il discorso legato alla scuola e PNRR, qui c'è qualche problema purtroppo legato alla sovrintendenza che ci impedisce di demolire la scuola elementare perché il progetto era demolizione della media e dell'elementare e costruzione di un nuovo edificio dove c'è la media. Stiamo lavorando con il Ministero dell'Istruzione per mantenere questo contributo di circa 8 milioni perché in questo momento è ancora con un punto interrogativo per questo motivo che vi ho detto e poi abbiamo messo in piedi un programma di sistemazione di parchi giochi un po' in tutto il territorio del Comune e altri interventi di varia natura che ci porteranno ad investire almeno 6-7 milioni inizialmente subito nel 2024. Il problema è che arrivano a ridosso delle elezioni e spesso e volentieri la gente dice ecco partono i lavori quando c'è una tornata elettorale, ma non è questo il motivo. Il motivo è che purtroppo i tempi di programmazione, di elaborazione del progetto e di appalto dell'opera sono veramente lunghissimi e mi auguro che si riesca veramente a spurocratizzare questo Paese perché i più penalizzati sono i comuni. Intervento di più ampio respiro, la variante, ne abbiamo parlato, già abbiamo accennato quando abbiamo fatto un'intervista nel ruolo di Presidente, c'è qualche novità alla situazione? Intanto stavo dimenticando tra le opere pubbliche che in primavera sarà completata la nuova palestra di arrapicata sportiva all'interno del Palazzetto dello Sport, quindi offriremo al mondo dello sport e ai nostri cittadini longaronesi, oltre al mantenimento dell'apertura di piscine e palasport che credetemi è un impegno economico importante, anche la realizzazione di questa palestra che offrirà un qualcosa in più e questo è un altro investimento importante che abbiamo fatto. Sulla variante di Longarone siamo in valutazione di impatto ambientale, entro l'anno dovrebbe completarsi l'iter da questo punto di vista e poi con il 2024 partire la fase di progettazione esecutiva e anche appalto dell'opera, quindi nel 2024 finalmente dovremo vedere il primo mattone di questa variante tanto attesa, il governo ha già stanziato quasi 400 milioni di euro per la sua realizzazione, i problemi sono sempre tantissimi, ma mi pare che stiamo chiudendo il cerchio e quindi a breve potrò darvi questa notizia ufficiale che è molto attesa non solo dal nostro comune, dai nostri cittadini longaronesi, ma anche un po' da tutti i bellunesi, da tutti i turisti che frequentano le nostre montagne. Questo porta a parlare anche di Olimpiadi naturalmente, c'è questa famosa pista da Bob che ancora ritorna come idea, cosa sta succedendo secondo lei? Ce la faremo? Stiamo parlando di legacy, ma ancora dobbiamo fare l'evento? Secondo me i tempi sono strettissimi e quindi il problema a questo punto oltre che economico è sicuramente di tempi. Noi da questo punto di vista come Longarone abbiamo la fondazione Milano Cortina individuato la zona della Fiera come un hub di scambiatore per quanto riguarda gli spettatori che lasceranno le proprie vetture lì nel parcheggio della Fiera e poi in navetta raggiungeranno Cortina per le gare, quindi sui padiglioni espositivi stiamo pensando a diverse iniziative in modo da chi arriverà a Longarone potrà avere anche un quid in più e la Fiera è l'ideale che porta, devo dire, delle Dolomiti ma anche delle Olimpiadi. Ultima nota di colore, diciamo abbiamo ancora un minutino, l'altro giorno l'ho vista in tv su una trasmissione dell'Aracola, com'è stata? Ma bello perché è una trasmissione che ha messo in evidenza un po' quelle che sono le bellezze del nostro territorio, quindi Longarone non è solo Vaionta e questo non lo dico ovviamente per tralasciare una parte di storia che è nostra e che noi non potremo mai dimenticare, ma è anche la storia dei nostri zattieri, quest'anno poi abbiamo sancito il gemellaggio per un anno con Venezia e abbiamo portato i nostri zattieri ad aprire la regata storica che è stato un momento straordinario, abbiamo gli scalpellini di Castellavazzo che è un'altra delle nostre, penso che fa parte della nostra storia, ma anche con il nostro museo qualcosa di veramente straordinario e con gli scalpellini abbiamo anche tante iniziative da portare, io dico sempre che con il nuovo comune è Castellavazzo, il nuovo centro storico del comune di Longarone, abbiamo il parco, abbiamo la passarella di Igna che è stata evidenziata, abbiamo i boschi di Caiada, del Grisol, insomma siamo riusciti a far vedere quello che magari spesso non riusciamo a, anche i nostri veneti devo dire, di poter ammirare, quindi è stata un'opportunità, un'occasione, ringrazio Lele che è un amico e che ci ha anche seguito in alcune iniziative del sessantesimo del Vajont di poter far vedere le bellezze della nostra, Longarone del nostro comune. Noi siamo in chiusura, io ringrazio ancora il sindaco di Longarone Roberto Padrin per questa chiacchierata. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a voi.